ciao a tutti ragazzi mi sono appena arrivate delle esche da un sito di pesca esche della syspin una marca veramente ottima che vi consiglio esche che si usano per la spiegola cominciamo con il pro q 90 molto colorazione per l'alba e per il tramonto molto bello poi abbiamo sempre un pro q 90 molto bello anche questo sempre per alba e tramonto poi passiamo i momotti abbiamo il momotti 115 sf colorazione agup veramente anche questo una bellissima esca che vi consiglio dopo abbiamo sempre un momotti 115 sf questo qua io lo userei soprattutto alla sempre all'alba e tramonto lo consiglio soprattutto per quelli per quelli orali colorazione cefalo molto bello poi abbiamo questo che l'ultimo che l'ultima esca che ho comprato in questi giorni ed è il momotti sempre momotti 115 sf colorazione sar molto bello anche questo prossimamente le proverò in pesca perché nei prossimi giorni andrò a pescare al mare che farò anche un video che vi caricherò niente ragazzi lasciate like iscrivetevi ciao a tutti